Durante il convegno il medico di medicina generale e il genere come determinante di salute è stata approfondita la tematica della medicina generale dal punto di vista della terapia e secondo l'aspetto endocrino, metabolico, cardiologico e neurologico. La medicina di genere è un tema fondamentale per garantire cure individualizzate e mirate alle specifiche esigenze del paziente. È una vera e propria medicina di precisione che deve rispondere ai bisogni dei cittadini di qualsiasi genere, sesso ed etnia. Durante la tavola rotonda è stata sottolineata l'importanza di rendere fruibile da parte del sistema sanitario e di tutti gli operatori qualunque servizio per garantire l'equità delle cure, ovvero fornire a ciascuno ciò di cui necessita. Esiste in Italia già dal punto di vista legislativo dal Ministero della Salute una legge 3 del 2018 che invita tutte le regioni a lavorare sull'argomento della medicina di genere specifica che si occupa del genere maschile e del genere femminile ma anche del genere inteso come individuo visto dal sociale, quindi un individuo che ha degli aspetti diversi dal punto di vista culturale, sociale e comportamentale. Bisogna informare e formare tutti i medici, oltre che quelli che lavorano nelle aziende ospedaliere, anche i medici del territorio per informare anche a loro volta il cittadino che deve conoscere questo tipo di medicina che non è nuova, sembra una medicina di rivoluzione ma in realtà si tratta di una vera e propria medicina di precisione, quindi noi dovremmo rispondere a tutti i bisogni dei cittadini, di qualsiasi genere, di qualsiasi sesso e di qualsiasi etnia, quindi bisogna lavorare in questo senso e noi vogliamo farlo in maniera univoca in tutta la Sicilia. La medicina di genere è un approccio che considera il paziente, ognuno come una persona, bisognevole di cure specifiche, per cui è importante avere per esempio diagnostica, esami di laboratorio, cure, prese in carico che siano individualizzate. Io direi che è importantissimo questo messaggio, medicina di genere uguale, medicina della persona uguale, cure individuali, questo è uno sforzo che devono compiere sia i medici, sia il servizio sanitario in generale, per esempio avere l'attenzione e la possibilità di erogare servizi anche domiciliari, avere l'attenzione e la possibilità di erogare riabilitazione che sia il più possibile individualizzata, in buona sostanza ogni paziente ha bisogno di cure e di approcci sanitari diversi, lo sforzo del sistema sanitario e di tutti gli operatori è quindi quello di rendere fruibile qualunque servizio, ecco perché si passa dal concetto di uguaglianza, non le cure uguali per tutti, ma dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno, quindi equità. Un tema nuovo ma attualissimo e soprattutto di cui si deve parlare assolutamente in futuro, racchiude sia la differenza biologica legata al sesso, ma anche un'implicazione di ordine sociale, economico e politico riguardo il genere, e quindi è di fondamentale importanza poter andare a parlare delle varie patologie con una differenza che non è solo legata al sesso, ma anche a tutto ciò che è di contorno al sesso stesso.